Sono 363 i nuovi positivi riscontrati in provincia di Arezzo nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 2.538, un numero sempre molto alto. Anche oggi i guariti superano i nuovi positivi. Ad Arezzo sono guarite altre 583 persone. Purtroppo nelle ultime ore c'è stato anche un decesso, un uomo di 59 anni, non vaccinato e con gravi patologie. La fascia di età più colpita tra i nuovi contagiati è la 0,18. Per questo e per rispondere ai continui attacchi da parte dei Novax, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha deciso di portare il camper vaccinale di fronte alle scuole in questa settimana. Per quello che riguarda il dato ospedaliero rimangono numeri piuttosto preoccupanti. All'ospedale di Arezzo ci sono 44 persone ricoverate in bolla Covid, il 65% di loro non è vaccinato e 13 in terapia intensiva Covid. Anche in questo caso il 65% non è vaccinato. Ci sono stati inoltre, sempre nelle ultime 24 ore, altri 13 pazienti ricoverati al San Donato che hanno fatto accesso per altri motivi e si sono scoperti positivi al Covid. Grazie a tutti i nostri spettatori e si sono stati inoltre, sempre nei nostri spettatori e si sono stati inoltre.